Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, coda per traffico tra Firenze Sud e in Cisareggello in direzione sud. In Fipilì per lavori, all'altezza del turbone, coda di un chilometro tra la Strassigna e Montelupo in direzione mare, in carreggiata opposta, possibili rallentamenti. Ricordiamo i percorsi alternativi sulla SP12 della Val di Pesa. Ultima pagina per il traffico ferroviario, ricordiamo che fino alle 17 di quest'oggi i treni potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni per uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario, tutti i treni cancellati sui nostri canali social. Prima di salutarci per il traffico aereo, il volo Firenze-Catania delle 13.25 al momento segnalato in partenza e in ritardo alle 14.20. Muoversi in Toscana Infio, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!